oggi siamo zona ecco ecco aspetta oggi siamo zona zona rossa è sicura sì sì no no secondo me no secondo me è zona arancione zona arancione oggi è 4 gennaio zona arancione signora non zona rossa zona rossa quando sarà zona rossa domani 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 dopo domani dopo domani lei cosa mi dice a questo punto i giorni di festa e no anche i prefestivi quindi domani è il 6 zona rossa il 7 si ritorna gialla forse non lo sappiamo non lo sappiamo il 7 non sappiamo quale zona sia gialla rossa arancione ma stanno pensando a delle zone bianche così delle dove ognuno può fare che gli pare quello che vuole fa quello che vuole fa ma è vero stanno pensando di mettere delle zone bianche io io penso una cosa che se uno adotta la distanza c'è le mascherine e non fa assemblamento può stare tranquillo può stare tranquillo però ci sono comunque delle regole che vanno rispettate sapete la storia alla barzellette delle panchine sul lungomare l'avete sentita cosa ha fatto dei caro le ha fatte togliere per anticipare la mano abbiamo spesso comunque togliere per fare la manutenzione però che succede però che succede non ha mai fatto come la manutenzione non ha mai tolto il coronavirus deve togliere ma che succede tolte le panchine sul lungomare si siedono sui la gente rimane in piedi tranne che in piazza redentore dove si può accomodare tranquillamente sulle panchine giusto ci stanno ci stanno allora ragione il sindaco de caro perché siccome ci stanno la gente dice ci stanno e ci sedia che stiamo agli arresti domiciliari non ho capito l'abbiamo detto noi volevamo che lei si indignasse e ci dicesse che non siamo agli arresti domiciliari tra l'altro è zona arancione quindi a ragione la signora forse sulla panchina si può allungate le mani vedete vi toccate ma toccate vi toccate non è proprio un metro vabbè comunque un metro e cinque comunque signori questo fatto dei colori prima o poi renderà dal tonico qualcuno se questa faccenda vuole praticamente secondo me bisogna vedere anche il risvolto positivo oltre che ristabilire i rapporti sociali tra le persone e nelle famiglie ha tolto l'inutilità di tante cose che la gente è distratta a fare tipo andare a fare shopping ci va lo stesso perché le file fuori dai negozi le può fare anche le feste vanno a fare però diciamo che si dà più valore alle cose essenziali tra cui anche ringraziare Dio perché siamo ancora non del tutto morti ma neanche del tutto distrutti cioè c'è un rimanente che è proprio sani e salvi ecco appunto bisogna anche ringraziare Dio delle cose che vengono negative perché poi tutto alla fine coopera al bene di quelli che amano il Signore visto che siamo al redentore quartiere libertà perché il redentore ci ha fatti liberi dalla schiavitù del peccato chi è senza peccato scagli la prima pietra o si faccia venire più memoria per ricordare quando è stato il primo peccato è vero? No vabbè la pietra è un modo di dirsi anche la manetta ma quella è una manetta è una manetta quella una manetta è questa ah no pensavamo fosse una manetta signora stai onettando perché le manette possono stare quelle tutte di veloce E poi bisogna rivalutare i valori veramente della vita la famiglia E quindi le sue sante parole sono sottolineate dai rintocchi della campana e quindi da piazza redentore dalle panchine che non sono quelle del lungomare per ora fino a diventare zona rossa forse bianca forse gialla forse verde forse non si sa è tutto buona promiscuità buon assembramento Ma dovremmo vincere almeno qualcosa con questi numeri giallo rosso verde arancione Fossero numeri sì sono colori 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 Fossero numeri sì sono colori